Chiara Ferragni e Fedez, e crisi profonda avrebbe cercato ospitalità da alcuni amici, ma la presunta crisi tra Fedez e Chiara Ferragni sembra ora sempre più vera. Dopo la serata di chiusura del Festival di Sanremo, si rincorrono il rumor sempre più insistenti che vedono l'imprenditrice digitale sempre più lontana dal cantante. Eppure c'è chi insinua sia solamente una scenetta per creare il pettorno alla coppia, chi invece crede sia semplicemente una mossa per fare marketing poco prima dell'uscita della seconda parte della serie televisiva ideata proprio per loro, De Ferragni e Fedez. Se pochi giorni fa erano stati beccati insieme durante una giornata trascorsa a Villa Crespi. Poco dopo più nessuna notizia. Solamente chiacchiericcio che li vedeva sempre più lontani. Entrambi assenti sui social, lei impegnatissima in questi giorni durante la Fashion Week di Milano pubblica foto dove si mostra sempre più magra e con lo sguardo sempre più triste. Lui, invece, sparito totalmente dai radar dopo aver sbroccato contro i giornalisti di fuori dal coro. Ha pubblicato pochissime storie che riguardano l'aspetto lavorativo ed è stato ben visibile il suo malessere. A tal punto da portare il cantante ad un'evidente difficoltà nel parlare e un accenno di balbuzia. Ma come stanno oggi le cose? A dare qualche altro dettaglio sulla vicenda ci ha pensato ieri Vanity Fair che ha fatto sapere che è molto peggio di quel che si pensi. Stando a quanto riportato dal portale, Fedez avrebbe chiesto, fallendo il tentativo, ospitalità ad alcuni amici. Nel tentativo di smorzare il gelo matrimoniale. Ecco quanto riportato. Ma ecco proprio la notizia dell'ultimo momento. Il giornalista Alberto Dandolo. Proprio ieri ha pubblicato sul suo profilo Instagram due foto che ritraggono Chiara e Fedez insieme. E a chi si stesse richiedendo se sia proprio Chiara Ferragni in foto, ecco la pronta risposta del giornalista. Giante si pleca, grabește-te ca trenul asta nu așteaptă. Dar eu știu deja ca vreau cu totul altceva. Închide ochii, poți imagina ca lumea e a ta. Și-n plus, pot să sari sus, 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 sus. Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei, n-au avut hava. Când e sus, când e sus, când e sus, când e sus pot eu să sar. Acum că nu, nu, nu mai am nimic de ascuns, pot să mă sus tot mai sus. Mai sus, tot mai, tot mai sus, tot mai, mai sus, tot mai, tot mai sus, tot mai, tot mai sus, 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 sus.